Musica Calcio Serie C, il Gubbio si allena in vista del derby di domenica prossima sul campo della Ternana che stasera alle 20.30 recupera la gara con il Fano Serie B, Perugia al lavoro per il Crotone il Tar intanto respinge la richiesta dell'Entella e il campionato cadetto resta definitivamente a 19 squadre Serie D, Blitz d'autore per Bastia Cannara accade invece il Trest in eccellenza il Poligno allunga in vetta sabato pieno di anticipi tra i dilettanti calcio a 5 in Serie B la Visgubbio legifera a Fano e ora arriva il Cus Ancona sabato alla Polivalente Buonasera, ben ritrovati con l'informazione sportiva dunque tanto calcio e calcio a 5 in sommario cominciamo dalla Serie C in apertura perché mentre la Ternana è in campo stasera per il recupero della seconda giornata di campionato al Mancini contro il Fano il Gubbio prepara il derby di domenica proprio ai liberati di Terni in programma alle 18.30 Sandriani all'intera rosa a disposizione ma difficilmente varierà sia sistema di gioco che uomini rispetto a quanto visto con il Rimini avanti dunque con il 4-3-1-2 in difesa solito ballottaggio tra Pedrelli e Loporto sulla fascia sinistra mentre in attacco Plescia in gol domenica scorsa resta favorito su Campagnacci e De Silvestro il nuovo capitolo oggi riguardante i ricorsi sui ripescaggi in Serie B il Tar del Lazio non accoglie la richiesta dell'Entella di dare esecuzione alla sentenza del collegio di garanzia del Coni che aveva riammesso il club Ligure nella Serie Cadetta al posto del fallito Cesena l'Entella proseguirà dunque la sua avventura in Serie C mentre i campionati e la FIGC restano in attesa ora solo dell'udienza collegiale fissata al Consiglio di Stato per il 15 novembre sul format della B che resta e dovrebbe a questo punto definitivamente rimanere a 19 squadre Ennesima ribalta europea invece per l'assistente arbitrale internazionale colonna della sezione AIA Matteo Passeri sezione AIA di Gubbio Le Gubbino infatti farà parte stasera del team arbitrale che dirigerà Benfica Ajax match valido per la fase a gironi del gruppo E di Champions League la gara si disputerà al Daluz di Lisbona stadio che contiene oltre 66.000 spettatori ribattezzato la Cattedrale Torniamo in casa nostra in Serie B a lavoro il Perugia a caccia della terza vittoria di fila nell'anticipo di venerdì sera con il Crotone di Scenale 21 al Curi Nesta sembra intenzionato a confermare il 4-3-1-2 come modulo iniziale Ngao è ancora out sulla corsia destra difensiva ci sarà ancora Mazzocchi mentre Felicioli può rilevare Falasco a sinistra a centrocampo Scalpita Moscati che può far rifiatare uno tra Dragomiro e Kingsley con Verre confermato trequartista e sempre Vido davanti insieme a Melchiorri e in arrivo sabato invece una giornata piena di anticipi nei direttanti in Serie D tutte e tre le Umbre in campo sabato 10 in vista del turno infrasettimanale di mercoledì 14 il Cannaro ospiterà la Sina Lunghese il Bastia affronterà il Comunale e la Pianese mentre il Trestina sfiderà il Viareggio con fischio d'inizio alle 15 al Bernicchi di Città di Castello due saranno anche gli anticipi per il decimo turno di eccellenza in programma sabato alle 14.45 lo scontro al vertice tra Lama e Spoleto e il derby tra Ponte Valliceppi e Ponte Vecchio in campo stasera invece Sanzista e Ponte Vecchio nel recupero della sfida valida per la quinta d'andata sospesa sabato 6 ottobre per il clamoroso furto avvenuto tra primo e secondo tempo negli spogliatoi delle squadre si disputerà quindi solo il secondo tempo ripartendo dallo 0 a 0 ma facciamo il punto su ciò che è successo nell'ultimo turno di Serie D eccellenze promozioni vediamo sono Bastia e Cannara ad avere la meritata copertina nella decima giornata di D partiamo da Biancorossi che sembrano aver lasciato completamente alle spalle la crisi soprattutto di risultati di inizio campionato ed inanellano al Degli Olivetti la terza vittoria filata superando 2 a 1 la Massese al termine di una gara decisa in volata accade tutto nella ripresa al ventitresimo Di Nicola eludi il fuorigioco e batte Lillacci con un mancino rasoterra per il vantaggio bianconero passano 5 minuti e Boldini batte una punizione dalla sinistra sul secondo palo Carmagnola esce a vuoto Bococco subentrata trinchese indirizza verso la porta Placido salva sulla linea ma il rompe Bagnai che griffa l'immediato pareggio minuto 85 corner corto di Boldini per Bura cross con il contagiri per la testa di Bococco decisivo a dir poco dalla panchina che con una pregevole incornata batte ancora Carmagnola sale così a quota 11 il Bastia stazionando a 100 classifica mentre ancora più su c'è il Cannara capace di battere in trasferta la capolista tutto cuoio la gara si decide al 26esimo del primo tempo e sono sempre le palline attive a fare la differenza corner superbamente calciato da Raccichini Subicini prende il tempo all'intera elettroguardia toscana e con un preciso colpo di testa schiacciato in fila Lombardi i rosso-blu si attestano così a quota 16 raggiungendo Montevarchi e Trestina con i bianconeri beffati con una rete in pieno recupero proprio sul campo degli aquilotti rosso-blu in eccellenza nel nono turno allunga il Vette il Foligno che approfitta dei pareggi tra Spoleto Ducato e Sanzisto Lama superando di misura l'assisi Subasio nel testa coda di giornata allungando a più 3 sugli spoletini e più 5 sui Lamarini i falchetti reduci dal trionfo in Coppa soffrono più del dovuto per scardinare la difesa assisana e a decidere la contesa ci pensa vent'anni al ventunesimo del secondo tempo quando il numero 11 bianco-azzurro con una precisa torsione aerea a centro area batte Catarinelli dopo una principesca giocata con crossmancino liftato di Peluso torna a vincere l'Angelana che supera 2-0 la Piavese pari per il Zansepolcro a Ponte San Giovanni nel girone A di promozione e fuga per la Tifernolerchi a più 7 dalla Trasimeno mentre cade il branca sul campo del Marra San Feliciano nel girone B la Nestor raggiunge in testi il campitello con il gualdo Casacastalta distante tra le lunghezze e siamo al calcio a 5 al futsal con la serie B e con la prima vittoria esterna per la Visgubbio di Marco Bettelli che è andata a dominare sul parquet di Fano vediamo seconda vittoria consecutiva e prima in trasferta per la Visgubbio che dopo l'affermazione casalinga con Campobasso espugna 5-0 il palatrave di Fano contro l'età beta allenata dal legubino Federico Mariotti salendo a quota 7 nella classifica del girone D di serie B nazionale di calcio a 5 approccio incisivo della Vis e in uno dei primi affondi Martella deposita in rete a porta vuota su assist di Cresto al termine di un'azione ben manovrata utilizzando il portiere di movimento il capitane Gubino poco dopo sfiori il raddoppio colpendo in pieno l'incrocio e lo 0-2 arriva sempre grazie alla qualità di Martella che dribbla tre avversari in serie ricambiando il favore a Cresto che firma il doppio vantaggio da qui a fine primo tempo il risultato non cambia nonostante l'età beta accumuli 5 falli dopo l'intervallo il team fanese alza la pressione cercando in ogni modo di accorciare ma Beltrami è bravo a sventare il pericolo in un paio di occasioni poi arriva il secondo giallo e conseguente rosso all'Ugubino Bay che costringe il fano alla momentanea inferiorità numerica con i rosso-blu che sfruttano la situazione trovando lo 0-3 con Wagner Leite i marchigiani provano un disperato assalto con il portiere di movimento ma è la Vis a trovare il poker ancora con Cresto che timbra la doppietta personale col risultato oramai al sicuro la Vis fallisce prima un tiro libero poi trova lo 0-5 con Bicai che segna porta vuota un successo netto e meritorio con dedica speciale al pivot Stefano Pierotti che sarà costretto a rimanere diversi mesi ai box complice la rottura del tendine d'Achille infortunio che il forte giocatore Gubino ha subito in allenamento Focus ora puntato sulla prossima partita con il quintetto di Marco Bettelli atteso sabato alle 16 alla polivalente contro Cussancona un banco di prova ulteriore per alzare ancora di più l'asticella allontanare la zona pericolosa della classifica e provare sempre con la massima umiltà ad avvicinare le formazioni di vertice e la strada intrapresa dalla compagine Gubina sembra essere davvero quella giusta Pallavolo in campo stasera per il turno infrasettimanale della sesta di andata la Seer Safety Conad Perugia di scena sul campo del tonno Callipo Vibo Valencia obiettivo principale quello di mantenere la leadership in classifica Perugia infatti attualmente al comando davanti a Modena che precede di un punto Bernardi non potrà contare ancora su Berger e Colaci e conferma la formazione degli ultimi due turni dopo l'impegno in terra calabrese Perugia attesa domenica prossima al Palabarton proprio contro Modena ed è anche l'ultima notizia di questo nostro appuntamento con la pagina sportiva vi ricordo stasera torna alle 23 sport e incontri a cura di Sergio Pioppi e poi la replica di questo appuntamento intorno alla mezzanotte 30 TRG Sport che ritroverete anche domani sul nostro sito trgmedia.it grazie buona serata grazie a tutti Grazie a tutti.